Salute! Come stai? Ma beh, te come stai Franca? Ma come ha? Ha la sola via, ha tenuto una spiò? Scusa, ma la che adesso, con tua stola mascherina ha sottotit precisi Si, però adesso la mascherina non lo venga Oh, la vera, te vedi scusamo Adesso, l'ombro non è uscacare tutto il virus e me, se sei passato in campo oi, non sei che mi sono un po' un po' un po' un po' un po' Ma, se per quello un po' 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 Comunque dai, sta bene, sta bene Solo che, da qui che sarei bello non tocare niente tutto con il mio marido Ma è pura, ma perché? Eppure ancora Una ha fatto e va in campo L'ha fatto il banco L'ha messo il tavolo E fu che non c'era da passare E me, un tocco di stile, tutti i due, fai la barestra Oh, molto bene Sì, sì Le tardelle in noi E io mi ha detto Stasera a voi la pericena Oh, e te sei fatto? Ma che papà? Ma io ho fatto Ma ciò Ma ciò che l'ha detto che mi è piaciuto Oh, ma perché? L'ha detto che scondolò un'era una pericena Oh E' una pericena E' una pericena E' una pericena E' una pericena Oh la galena E ho E' una pericena E poi Quelli che questi Mi hanno affattato anche per UnPerfecto Allora è Sia proprio Ci mano e dopo come ti fai? dopo dopo la stoffa da lì a me sui miei a soldi dei figli buon'era il mio calore sai che in questo paese c'è l'epidemia di sol nooo non è l'epidemia di sol l'epidemia di sclerosi tratta la tua testa scende a fare una festa già fatto bene però potrei mettere un cartello con scritto se no a me ho perso tutta la mattina come? cambiamo le cose chiamate a me non so che ho messo a trovare del computer ho ho carregato il tiktok oh io chiedo ma come ho carregato il tiktok? con il forchino o con il badino? non so con la banca no 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 con la banca non posso perchè dopo la banca non si fai mai leggi non no 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 lo dice il mio io faccio il tuo computer le clicche a proposito quando è il clicche il tuo computer si vede anche la lingua si si vede anche la lingua come chi ti apre la sveglia si molti clicche si bagnano tutti i vetri ho sempre la piada di videota su che è il schermo si 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 ora facciamo gli auguri si si oggi Pia e Ladina sono qui per fare gli auguri di buone feste il nostro augurio è che le nostre vite possano riconquistare la libertà che il virus ha sospeso a te vuoi aggiungere qualcosa? non potrei dire di meglio di ciò che hai detto tu allora tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo alla Pia e alla Dina ciao 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 ha dato il nostro presidente Carlo Conti Giuseppe Conte, è quella del 10 volte, speri questa battuta la cambiamo su un po' E me, un tuo caffè, la barestra è tutta lì Penso che l'è tardi, l'è nutrimo ancora e mi ha detto fammi un moito E adesso l'hai fatto E niente, io ho detto che quei galeni facevano da donna e ne faccio niente da verte Fa proprio bene Quanto po', cosa hanno l'emboito? Stacca la cina presa Io dopo due mesi, sono venuto a fare la spesa e sapere l'arco Ma come due mesi? Sì, perchè a me ho una qualità il polo, i gallini, il cuneo, il burale e il porco, il porco è rimasto per me! E come fai la mia fiducia per te? Cambiamo la scorsa! Non sai che ho iniziato nel computer? Oh, tu? Ho scaricato TikTok! Avanti! Ma basta! Scusa, scus, scus! Come ti ho da dire? Che ti ho da dire avanti? Avanti! Basta! L'augurio è che le nostre vite possano prendere possesso della libertà che il virus ci ha privato. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire tanti auguri di buona festa a tutti e che siate tutti positivi! Ecco! Ma come sfaldi? Siate tutti positivi! L'accento di quel'ho inizio! Visto a te. Questa E' quello che è? No, no! 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 No, no è ancora! No, no, no! No, no! No, no! No, no! Grazie.